Buonasera a tutti, come anticipato da Irene, io sono Andrea Zollo, mi occupo della parte commerciale di tutta la filiera dell'edilizia. Noi nasciamo dalla fusione di due realtà alto tesine, entrambe con più di 35 anni di esperienza, ormai siamo quasi a 40. Oggi siamo un gruppo molto solido e ben strutturato, siamo più di 360 collaboratori, credo che nel 2020 siano state assunte circa 59 collaboratori, più di 70 nel 2021. Questo perché ve lo sto dicendo, non per tanto per fare i figli, come si dice, ma per farvi capire che è un gruppo solido, è una realtà che ci crede e che sta crescendo man mano, crescendo proprio sul territorio. Abbiamo quasi 4.000 clienti in vari settori, non tutti nell'edilizia, ma una grandissima parte, credo che circa 500 siano proprio nella nella filiera delle costruzioni. Cinque sedi nell'Oro Italia, abbiamo Bressanone, che è appunto il nostro quartier generale, Bolzano, Trento, Verona, Venezia, Verona con la nuova sede appena inaugurata da qualche mese e adesso abbiamo anche un piccolo ufficio a Milano, non è ancora una sede vera e propria, ma è un punto d'appoggio, ma crediamo insomma di ampliarci anche lì, e una sede in Germania proprio per il mercato tedesco. Queste sono solo alcune delle nostre esperienze, sono divise in categorie, fanno parte tutte della filiera delle costruzioni, oggi in realtà siete quasi tutti praticamente impiantisti, ma dovete sapere che noi siamo specializzati e focalizzati in tutta la filiera. Cosa vuol dire? Partiamo dalle imprese di costruzione a quelle stradali, dai produttori di materiale al commercio di materiale edile, passando per imprese specializzate e particolari del settore. Diciamo che seguiamo a 360 quadri tutto il mondo che ruota intorno al cantiere. Cos'è Ergo? Ergo è il software per la filiera delle costruzioni, finora non abbiamo mai parlato, cos'è? È un software gestionale, è un IRP completo che può gestire tutti i processi aziendali. Specializzato, è nato dall'esperienza di specialisti. Tutte le esperienze che abbiamo fatto prima ci hanno portato a qualcosa e quindi abbiamo ascoltato tutti gli attori e ascoltandovi abbiamo capito cosa potevamo ampliare, cosa potevamo portare nelle vostre aziende. Quindi abbiamo imparato le nostre esperienze e portato l'esperienza all'interno del software. Semplice, abbiamo cercato di renderlo quasi il più possibile semplice, anche se probabilmente non è così semplice renderlo, è un gioco di parole. Le edilizie e le cantiere non sono un mondo semplice, anzi sono proprio complessi. Uno perché non si lavora in un solo posto, non si lavora all'ufficio, si lavora in mobilità e quindi le problematiche si devono risolvere dove ci si trova. Però abbiamo cercato di rendere semplice l'interfaccia e le logiche per dare una mano un po' a lavorare meglio. Col lavoro attivo, una delle cose secondo me più importanti. È uno strumento unico che va bene sia per i tecnici che per gli amministrativi. Non è assolutamente poco, è un aspetto importantissimo perché nel momento storico che stiamo vivendo abbiamo bisogno di velocità, abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di avere un unico strumento per evitare errori e essere veloci a dare risposte e a muoverci in tempo. Digitale, questo è uno slogan, sì. Digitale perché? Perché è mobile, perché è smart, perché utilizziamo app, come andremo a vedere adesso, per gestire tantissime cose. Abbiamo due versioni di Ergo. Abbiamo Ergo Mobile Enterprise, che è un po' il papà del gestionale. È un IRP completo, adatto alla piccola media impresa e si lavora per progetto. Poi abbiamo creato una realtà più semplice, più snella, piccola per microimprese, per le aziende un po' più piccoline che hanno bisogno comunque degli stessi strumenti, ma con più velocità e meno tempo da dedicare al gestionale. Ed è Ergo One. Niente, adesso io ho finito, partiamo un po' la parte tecnica e passo da te la parola, Alessio. Grazie Andrea. Vorrei solo una conferma se vedete il mio monitor. Sì, lo vediamo. Bene, perfetto. A parte tecnica, faccio ancora un pochino di parte teorica io adesso. Oggi non parliamo di edilizio, parliamo di impiantistica, parliamo di una soluzione semplice che abbiamo fatto per aziende che hanno la problematica delle manutenzioni, come centri di assistenza, centri di riparazione, manutentori di impianti elettrici, idraulici, caldaie. Perciò tutto è un po' quell'ambito di persone che hanno bisogno con semplicità di gestire queste problematiche. Qual era il nostro obiettivo? Era quello di eliminare la carta dalle aziende, dai furgoni, dalla macchina del tecnico, in modo da far cosa? Da gestire gli appuntamenti, da avere sempre i contatti a portata di mano, da poter inserire gli interventi non sulla carta ma su un supporto digitale, per avere tutte le informazioni necessarie prima di entrare a fare l'intervento, perciò lo storico degli interventi. Ecco, con Ergo Mobile Service si possono organizzare, potete organizzare i tecnici senza perdere nessuna informazione, senza perdere le chiamate che ricevete, i ticket, no, e tantomeno gli interventi. Perciò sia il tecnico che l'amministrazione avranno i dati sempre aggiornati, tra l'altro il tecnico lo farà direttamente con lo smartphone, in tempo reale proprio, così la situazione, sia degli interventi da fare che quelli esecuiti, con tutte le informazioni, le ore, i materiali, eccetera, diventano patrimonio dell'azienda. In questo modo cosa si può raggiungere? Di evitare sprechi di tempo, la carta, l'ho già detto, che si elimina, si avrà tutto più, adesso ho paura di dire automatizzato, ma tutto più armonico, senza complicazioni con fogli Excel da aggiornare o post-it di qua e di là. Ecco, questo era il nostro obiettivo e questo consente a voi di ottimizzare i tempi, evitare errori, abbassare i costi di gestione, fare anche qualche intervento in più nella giornata, perché l'organizzazione mi porta a ottimizzare proprio il tempo, no? In più le informazioni all'interno di un gestionale fanno migliorare i controlli e non per ultimo portare anche una fatturazione molto più veloce. Cos'è appunto che con Ergo Mobile Service andiamo a gestire? Possiamo gestire le manutenzioni ordinarie, quelle a contratto, no? Che a fronte di un accordo con un cliente vado a pianificare semplicemente quanto si deve andare a fare nei vari interventi e magari anche chi e cosa deve fare. Le manutenzioni straordinarie, cosa intendo? Intendo la chiamata della signora Maria che mi chiede di andare a casa sua perché c'è il clima rotto o la caldaia in blocco e non riesce a sistemarla. Possiamo gestire ovviamente il rapportino, perciò oltre a organizzarmi l'agenda faccio il rapportino inserendo le ore dei tecnici che si è andati, sì tecnici, ho parlato in plurale perché dopo vedremo che posso gestire la squadra che ha fatto l'intervento, posso inserire i materiali utilizzati, i costi accessori, la trasferta, i chilometri e quant'altro. Parlando di costi, perciò le ore dei tecnici, materiali utilizzati, questi costi accessori mi danno l'entità costo dell'intervento che dopo andrà a raffrontarsi anche con quello che è il ricavo in modo da capire la marginalità. Sono tutte cose che un applicativo gestisce in modo automatico, perché il dato c'è. Non per ultimo l'agevolazione della fatturazione, anzi l'ho lasciata per ultima ma alla fine è quella che dà più valore raggiunto perché ho tutti gli interventi all'interno di Ergo, ho gli strumenti per controllare che ci siano tutte le informazioni, che ci siano i prezzi, che non ci siano strafalcioni all'interno e in modo semplice si va in fatturazione, fatturazione che ovviamente è anche elettronica per chi ha voglia di attivare anche il nostro portale. Ecco io ho finito la parte accademica e con estrema semplicità andrei a farvi vedere quello che abbiamo fatto con Ergo Mobile Service. Ok, parto dalla parte del client, perciò dalla parte del back office, da quella che è in azienda dove utilizzo il client di Ergo. Come diceva prima Andrea, Ergo vale per tutta la filiera delle costruzioni, perciò anche l'impiantistica se ha la gestione dei cantieri potrà anche andare a gestire il cantiere in termini di monitoraggio dei costi, rapportini di malodopera, materiali, subappaltatori, in termini di contabilità dei lavori oppure semplicemente di fatturazione o della gestione del conto da dare al cliente con tutte le sue analisi, perciò analisi di raffronti con i budget, analisi per capire come sta andando il mio cantiere, analisi finanziarie, controlli delle ore fatte e diciamo che dopo con i tastini di analisi si entra anche nel dettaglio. Ergo, signore chiedo scusa che il monitor mi fa le bizze oggi, può gestire anche le offerte, anche nel mondo delle manutenzioni io potrei fare un'offerta e dopo a fronte di un'offerta vado a definire il mio contratto. Anche se lo faccio in un altro menu, un'altra workspace, area di lavoro, non è un problema, è tutto integrato, dopo me lo vedrò anche nella gestione degli interventi. Torno un attimo indietro, ergo vi chiedo scusa se devo fare questa operazione, purtroppo ho un monitor che mi fa le bizze oggi. Ha anche la gestione del documentale, documentale per commessa o per cliente o per fornitore, adesso io ho l'esempio del cantiere, della commessa, mi permette di archiviare qualsiasi cosa, foto, ddt, le fatture con il pdf piuttosto che i contratti con l'elenco prezzo, il compito metrico, la sicurezza con, che ne so, la notifica preliminare, il posto, il psc e tutto quello che gira attorno, in questo caso, al cantiere, alla commessa, lo posso archiviare qua automaticamente. Ho voluto fare questa prima anteprima per capire perché, per ricondurmi a quello che la premessa di Andrea, che ergo, è adatto alla filiera delle costruzioni. Per chi ha necessità o chi ha volontà di approfondire anche la gestione dei cantieri, benvenga, nella chat può indicare, oppure mandare una mail a me o a Andrea, dopo vi do i riferimenti. Appunto anche tutta la gestione degli acquisti e delle vendite. Perfetto, oggi l'argomento è la gestione degli interventi. Infamance in realtà ha due soluzioni, una molto avanzata, che non vediamo oggi, e la nostra che è Ergo Mobile Service. Ergo Mobile Service si basa sui concetti che dicevo prima. Cosa? Io ho un elenco di clienti o potenziali clienti che mi fanno delle richieste di intervento straordinarie, oppure mi chiedono, vieni qua a vedere che ho una caldaia da cambiare, vorrei condividere con te, dopo magari mi fai un preventivo, oppure con un mio cliente che mi fai un contratto. Benissimo. Perciò dalla mia lista clienti, io adesso vado a ricerca dei clienti InfoMinds, una volta trovato lo seleziono, il programma mi attiva una serie di funzionalità. Nel mio caso ho le richieste di intervento straordinario o pianificazione dell'ordinario, perciò il contratto. Avrò la possibilità di interrogare tutte le richieste aperte per capire come mai non le ho ancora fatte o assegnate a qualche tecnico, con quest'altra analisi. Potrò anche prepararmi dei DDT di materiale per inviare, per dare al tecnico in modo che quando chiude l'intervento può attingere dai DDT in automatico, in modo che il cliente mi fermerà un rapportino con la mano d'opera e anche i materiali. posso anche, se un tecnico non gli funzionava l'app, inserire un rapportino direttamente dal client di Ergo e da qui, una volta fatte tutte le analisi per vedere tutti i rapportini da fatturare, andare in fatturazione. Sono cose che vedremo anche adesso in pratica. Una volta tornando al nostro cliente, qua vedo i contatti del cliente, perciò con semplicità, se devo richiamare il cliente, io che sono il back office ho a disposizione tutti i dati per fare le chiamate o per mandare una mail, ho un cruscotto che mi permette di vedere tutte le richieste aperte, è un colpo d'occhio. Questo tendenzialmente dovrebbe essere vuoto, vuol dire che tutte le richieste sono evase. Chiaro, ho qua quelle della settimana in corso, insomma sostanzialmente, ho quelle pianificate. Posso avere anche un colpo d'occhio mensile, una pianifica mensile, per tecnico, in modo da vedere tutti gli interventi da fare e nel mese mi vede quanti interventi ho pianificati nel giorno. Qua vedo che il primo ho due giorni pianificati e via e via. Stessa analisi, la posso vedere anche settimanalmente. Ok, adesso io emulo una chiamata di InfoMinds che mi dice che su un suo impianto c'è bisogno di fare un intervento. Come si fa? Una volta selezionato il mio cliente, clicco su richieste intervento straordinaria. Nella prima videata vado a identificare su quale impianto, su quale cantiere devo fare l'intervento, che ne so, scuola, primaria, via di Mozzecane. All'interno dell'impianto, della location, del cantiere, chiamiamolo come vogliamo, ho la possibilità di andare a fare una mappatura, esempio locale tecnico con all'interno tutte le apparecchiature, sala riunioni idem, palestra e dico mi stanno chiamando perché lo split grande sopra la porta in ingresso della palestra non sembra non funzionare. Perciò lo seleziono. Una volta selezionato questi due elementi, premo questa freccettina in alto a destra e vado a indicare che tipo di attività deve fare il tecnico. Perciò gli dico controllare lo split in palestra, virgola, sembra non funzionare. In più magari gli dico guarda che il cliente ha già fatto tutte le operazioni da manuale per il ripristino. Così gli passo anche delle informazioni aggiuntive al mio tecnico che sta uscendo. Benissimo, cosa posso fare? Posso indicare una data da fare domani, anche indicare una fascia oraria. Qui è un esempio mio, ma voi vi potrete personalizzare tutte queste tabelle, sono tutte personalizzabili da voi. Io vi dico la scuola ci vanno nel primo pomeriggio perché al mattino i bambini è prioritario perché sennò quando fanno ginnastica muoiono. E che tipo intervento è? È un intervento straordinario, vuol dire fatturabile sostanzialmente questa causale qua, questa tabella qua mi determina se è fatturabile o meno. Potrei già indicare un tecnico e io dico sì guarda ci va Alessio e salvo. Fine. Fatta questa semplicissima operazione, al di là che me lo vedo nelle mie richieste aperte, il tecnico, adesso passo sull'app, il tecnico nell'app Ergo Mobile Service, ok, nelle sue richieste intervento straordinario vedrà tutte in ordine cronologico, chiedo scusa, proprio tutte le attività che deve fare. Questa era quella che abbiamo inserito prima. Controllare lo split in palestra sembra non funzionare. Bene, è al bollino rosso perché noi avevamo indicato che è priorità alta. Ci clicco dentro, l'app mi dice guarda che il cliente ha già fatto, ho scritto malissimo, ho scritto vuol dire che il tecnico quando va là sa che non gli deve dire ma hai fatto questo, 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 questo. No, perché egli l'ha già detto. Controllo il tutto e dico bene, aspetta, posso anche vedere apri mappe così prima di partire, so dov'è il mio cliente e mi organizzo meglio il percorso, ma se qua quando arrivo davanti gli dico inizia intervento. È semplicissimo perché alla fine del lavoro il tecnico può completare una descrizione mettendo effettivamente quello che ha fatto o cancellare quello che precedentemente dall'ufficio mi hanno scritto. Può mettere le ore dell'intervento premendo questo tastino più. Se ero solo io seleziono solo Alessio Moretti, ma se eravamo in due, Andrea Zollo ed io, seleziono i due tecnici. Qui ho tutto l'elenco dei miei tecnici. Indico le ore dell'intervento, abbiamo iniziato alle 17.00 e abbiamo finito adesso. Aggiungi. Perciò in automatico l'app mi mette i due tecnici con le ore dell'intervento. Come dicevo prima, nell'app posso anche indicare materiale utilizzato premendo il tasto più. L'app cosa permette di fare? Di pescare tra i preferiti. Preferiti di cosa? Nel gestionale Ergo c'è un'anagrafica di articoli che il tecnico ha a disposizione. Ovviamente nel tutti vedrà tutta l'anagrafica degli articoli e qua mettendo una parola chiave va a ricercare gli articoli. Ma torno sui preferiti. Se di solito faccio le manutenzioni delle caldaie e di qualcos'altro, perciò sono sempre quei 200 articoli che vi girano per la maggior parte, metto un fleghettino preferito in modo che il tecnico sia agevolato a trovare i materiali che mi interessano. Seleziono il materiale, metto la quantità e con l'aggiungi e chiudi mi seleziono il materiale. Mentre torno dentro, se dicevo 2 aggiungi, 5 aggiungi e chiudi, man mano che facevo aggiungi, aggiungeva senza chiudere la videata, un metodo agevolato per inserire il materiale. C'è però l'ultimo, Service DDT, che se il magazziniere mi avesse preparato il DDT, io qua mi trovavo tutto l'elenco dei materiali degli DDT e potevo evaderlo velocemente con le quantità realmente utilizzate per fare l'intervento. Questo cosa mi avrebbe permesso di fare? Che con il concludi intervento, oltre a indicare le ore di viaggio e i chilometri fatti, che se sono indicati nella grafica del campiere della location, me li propone in automatico la mia app, mi trovo già automaticamente il riepilogo del materiale utilizzato e della mano d'opera impiegata. Qui ho la possibilità di indicare se ho lasciato l'impianto funzionante, così almeno so che quell'intervento è chiuso. Posso indicare anche se ho incassato direttamente il corrispettivo e se metto incassato, l'app mi permette di indicare, anzi mi permette, mi obbliga di indicare effettivamente quello che ho incassato. Se non metto l'importo calcolato uguale, dopo l'app, applicherà uno sconto per la differenza, una buona sostanzialmente. Posso indicare delle note del cliente? Grazie, siete stati bravi e veloci ovviamente oltre che digitarlo lo posso anche digitare col voice, dettare col voice. Alla fine firma e qua vado a far firmare al mio cliente. Salva. Semplicissimo, conclude intervento e ha cambiato stato. Ho la nuvoletta del cloud, vuol dire che questo intervento sta per essere inviato in sede. In sede, torno qua, adesso io lancio l'importazione a mano, in realtà nella normalità ergo ogni minuto, ogni due minuti esegui l'importazione. Ecco qua. Abbiamo il pc stanco. Sta ancora eseguendo, chiedo scusa, ho fatto tanti interventi in questi giorni, non li avevo mai importati. Va benissimo, adesso arriva lui. Praticamente lui li ha importati. E cosa ha fatto? Se c'era del materiale, come nel nostro caso, ha fatto la movimentazione del magazzino, è andato a scaricare il magazzino. In più, cosa ha fatto? Ha attribuito il costo alla nostra commessa, scuola primaria di Mosecane, se vi ricordate, no? Perciò ha attribuito costi di mano d'opera, costi di materiali e anche le spese di viaggio e di trasferto. E se l'intervento era fatturabile, me lo trovo adesso nella lista dei interventi da fatturare. Perfetto. Perciò, cosa succede? A fine mese, parlando di fatturazione, l'amministrazione dice, bene, fammi vedere l'elenco interventi dei rapportini da fatturare. Chiedo scusa. Io ho selezionato tutti i miei clienti, ma se volessi selezionare solo un cliente per analizzare meglio quel cliente lì, ho selezionato quello, il programma cosa mi fa? Mi tira fuori tutti i rapportini aperti, chiaramente quelli da fatturare. E premendo esegui, mi li tira fuori tutti. Ma io potrei filtrare per data, potrei filtrare tutti quelli dove ci ho incassato, sì, oppure tutti quelli con lasciato funzionante, sì, perché magari quelli con lasciato funzionante, no. Li voglio prima analizzare con calma, perciò prima fatturiamo tutto quello che è semplice e dopo andiamo a gestire la diversità. Queste sono considerazioni importanti che vi aiutano a fare anche una bella figura col cliente. Adesso io tiro fuori tutto e vediamo cosa mi trovo. Mi trovo praticamente che ho da fatturare di InfoMinds tutti questi interventi, tra cui quello del 22, perciò dove mi dice che avevo dei materiali e delle altre cose, ma mi tiro via questo aggregamento e mi fa vedere praticamente che avevo controllare lo split in palestra. Era la nostra descrizione, che magari me la posso anche allargare così capisco meglio. Vedo che ho utilizzato dei tubi passacavo, un manicotto, ci ho messo totte ore per i nostri tecnici, ho fatto un'ora di trasferta e 25 chilometri. Perciò tutto quello che avevo indicato nell'app me lo trovo qua. E cosa succede? di solito cosa fa l'amministrazione? Col doppio clic va dentro, mi verifica le robe, se tutto è a posto, gli dico fattura. Cioè nel mio esempio, ESC, ho una struttura di organizzazione, che l'intervento fa e il tecnico fa l'intervento, in sede me li controllano, qualcuno le controlla e dice fattura. Solo quando ho detto fattura, perciò adesso io emulo anche la fatturazione di questo, con questo genera documento, vai fattura. Ok. Adesso l'amministrazione, quando andrà in fatturazione, fatturazione, l'amministrazione ci entra da un'altra parte, adesso io ci entro in modo veloce, dirò fatturazione elettronica alla data di oggi, fammi vedere solo il cliente InfoMinds, il programma filtra già tutti i rapportini fatturabili. Eccoli qua, quelli del 22. Addirittura potrei dire fammi vedere solo i rapportini interventi ordinari o fatturare solo questi, perciò posso fare tutta una serie di filtri. Fatti questi filtri, il programma è già in grado di elaborare la fatturazione elettronica, che me la vedo in anteprima, che era intervento numero 108, controllare lo split, quel tubo passacavo e via e via e via e via, per arrivare proprio all'importo della fattura. Questo è il nostro programma di fatturazione che mi genera anche proprio o semplicemente l'XML o integrato, come dicevo prima, al nostro programma di fatturazione elettronica tramite il portale. Adesso io cancello questa elaborazione, perciò a fronte di rapportini certificati io posso andare a fatturare. Un altro modo è la fatturazione diretta, senza l'autorizzazione di qualcuno che mi dice, sì questo rapportino è a posto, questo è a posto, questo è a posto. Dipende da com'è la vostra organizzazione aziendale. Qui praticamente il programma, una volta selezionato il cliente, le date di fatturazione, quello che voglio, i filtri sostanzialmente, mi fa vedere tutto quello che è fatturabile con un'anteprima di questo dettaglio. Posso andare a selezionare io, sì fattura questo rapportino e questo rapportino e crea fattura, mi genera proprio la fatturazione. Mi avvisa che c'è qualche riga senza prezzo, perciò mi evita di fare errori e qua la stessa cosa, vado in fatturazione. Perciò, adesso lasciate stare i testi grandi o piccoli, io gioco con le anteprima. Cosa vi ho fatto vedere? Vi ho fatto vedere che se siete un'azienda con una certa organizzazione di controllo, potete tramite questo elenco, rapportini, interventi da fatturare, passare da uno step di rapportino fatto, rapportino controllato e l'amministrazione fattura i rapportini controllati. A me personalmente piace questo perché sono malato di controlli e sto sempre molto attento, ma nulla vi vieta con la fatturazione diretta di rapportini, comunque lo stesso qua, se vi ricordate, avete un controllo interattivo. Ecco, perciò dipende da come siete organizzati, basta, è questo il senso e avete la libertà di scegliere l'una o l'altra, o addirittura a volte uno a volte l'altra, perciò ecco, l'importante è la semplicità e la flessibilità. Diciamo che proprio è questa la struttura della gestione di interventi, con semplicità a fare questo. Non abbiamo agende stratosferiche, non abbiamo particolari necessità o esigenze. L'unica cosa da avere chiaro è far bene l'anagrafica dei clienti, far bene l'anagrafica degli articoli per agevolare i tecnici. Per chi ha la gestione dei cantieri, configurare l'anagrafica del cantiere che è di una semplicità estrema, adesso entro nei cantieri col doppio clic, perciò vado a mettere il cantiere con la destinazione importante, la destinazione per riuscire a fare anche dei servizi ai clienti di suddivisione delle fatture, tabelle statistiche e basta con eventualmente la condizione IVA di quel cliente lì, di quel cantiere lì, fine. Determinate queste anagrafiche, le altre le precarichiamo noi e voi ve le potete sempre personalizzare e il programma è utilizzabile da subito. Va installato in sede da voi o in cloud per chi piace il concetto del cloud, esige, visto che diciamo quando viene installato da voi, preferibilmente su un server, perché vi dà più garanzie di sicurezza, dopo serve una configurazione dei firewall per permettere alle app di poter leggere e scrivere direttamente appunto sul server vostro e nulla di più. Sì, un server moderno, ecco, perché usiamo tecnologie comunque professionali con database SQL della Microsoft, strumenti che esigono un po' di potenza nel server, ma non bisogna mica andare sulla luna. Ecco, facciamo le cose sempre equilibrate. Fatto questo, vi scaricate le app e via e via. Per i clienti Ergo One, che è quello che stiamo vedendo in questo momento, ci sono dei corsi organizzati che partono ogni cinque settimane, sostanzialmente una volta al mese e fanno proprio il processo di controllo dell'azienda, cantieri, acquisti, vendite e interventi, insomma in virtù delle opzioni che si andranno a acquistare, a selezionare e perciò fate dei corsi online. Cosa vuol dire? Che nel giro di un mese e mezzo voi potete anche essere operativi, mi azzardo dire al 100%. In realtà il 100% lo raggiungete nel tempo con la padronanza che prendete man mano dello strumento. Però ecco, Ergo One è un prodotto che vi permette di partire velocemente in tempi veramente brevi.